Buongiorno, io mi chiamo Elena Perosino, sono la docente dei corsi dal disegno alla pittura all'acqua dell'Unipop. I miei corsi quest'anno saranno tre, e saranno di primo, secondo livello in presenza, e un corso online il giovedì. Per il primo livello è aperto a tutti, tutti quelli che vorranno accedere e provare il disegno, e sarà un corso dedicato all'inizio a proprio chi è principiante e vuole provare a disegnare, imparare a copiare, e poi pian piano arriveremo a usare il colore, saper conoscere i materiali, le tecniche, i vari trucchi del mestiere, naturalmente passo per passo anche per chi inizia. I corsi vi ricordo che sono tutti a numero chiuso, quindi affrettatevi all'iscrizione. Grazie, spero di vederli.